Eccomi, salve a tutti ragazzi, sono Epic Boss col mio nuovissimo canale La Dimora del Boss molta fantasia tra i due nomi e abbastanza nerd come nome ma cioè, ci ho pensato tutto il giorno a scuola ma poi mi è venuto un altro nome mi hanno detto che l'avevo tipo copiato quindi ho messo sto nome nerd e sono qui per presentarvi questo mio nuovo canale che sarà di gameplay soprattutto di giochi horror, scary games come Amnesia, Penumbra, Resident Evil, Walking Dead quei giochi là video tutorial su come scaricare, usare altri programmi che vi chiederete Top 10 occasionalmente quando ci avrò i cazzi di farli e quando avrò abbastanza giochi per farli saranno Xbox, PS3, PC, quella roba lì sta cosa qui e altro perché non avevo nient'altro in mente lo spazio era poco e ho detto boh, lasciamo l'incognita e niente, il canale è fatto come vedete ho creato sono stato tutta la mattina a creare sta cacchetta di sfondo e niente io farò dei video questi che vi ho detto i primi saranno probabilmente Minecraft Amnesia quei giochi che già posseggo e niente spero che vi piacciano scrivetemi commentate e iscrivetevi così saprò cosa ne pensate e cosa volete che io faccia e niente Epic Post si saluta e ci sentiamo al prossimo video